Un'altra vittoria europea per il Beretta Schio, domina 73-59 Saragozza, ribalta la differenza a Canestri e si conferma tra le migliori otto squadre d'Europa, addirittura la settimana prossima c'è la possibilità di agguantare il secondo posto nel gruppo A, una gara ottima quella delle Orange che conducono dal minuto zero e tengono sempre le avversarie a distanza di sicurezza, nonostante una serata poco felice al tiro dall'arco 4-15 Schio è riuscito a variare il suo arsenale dei colpi, fondamentale comunque la prestazione del Beretta nel primo tempo nel quale ha segnato tanto, 45 punti, ben 28 nel primo quarto e ha sfoderato una grande difesa che ha incrinato la fiducia degli ospiti, nei secondi 20 minuti si è sofferto l'arrembaggio spagnolo ma non è mai stato concesso al Casa Demont di rientrare sotto gli otto punti e comunque uno splendido primo tempo.